che cosa si intende per bene rifugio analizziamo questa espressione che si usa tantissimo per bene rifugio si intendono tutti quei beni materiali quindi l'investimento in beni materiali che in qualche modo possono assicurarci una protezione nel tempo quindi beni materiali che nel corso del tempo non diminuiscono il loro valore è un termine usato anche dagli investitori che vogliono proprio trovare rassicurazione nei confronti dei loro risparmi e quali sono i beni rifugio per eccellenza quelli più conosciuti per così dire potremmo parlare del mercato immobiliare chiaramente però quando parliamo di mattone dobbiamo mettere in conto che ci serve una cifra di denaro un po più importante rispetto ad altri investimenti oppure c'è tutto l'ambito dei diamanti e delle pietre preziose qui oltre a parlare di una cifra sempre di denaro importante però bisogna mettere in conto di essere esperti perché bisogna andare a riconoscere la pietra preziosa reale oltre al fatto che c'è tutto un tema di liquidità perché nel momento in cui io voglio rivendere ad esempio una pietra preziosa magari il mercato in quel momento non è favorevole stesso discorso vale per opere d'arte e da collezione dobbiamo essere esperti per evitare fregature e anche qui subentra magari un mercato meno liquido nel momento in cui ho bisogno di vendere la merce acquistata in tempi brevi ma il bene rifugio per eccellenza è l'oro il cui valore è riconosciuto da tempo a livello universale non a caso soprattutto quando ci sono delle situazioni di crisi crisi economiche finanziarie comunque dei fattori esterni anche un tema di inflazione piuttosto che di calamità naturale gli investitori cercano rifugio proprio nell'oro quindi vanno a dirigersi lì e di conseguenza le quotazioni dell'oro salgono è così anche in questo momento davide biocchi beh direi che sta cominciando a essere così perché l'oro è un bene rifugio a cui ci si rivolge quando c'è avversione al rischio quindi quando gli investitori hanno timore di qualcosa qual è il timore in questo momento beh che con tutta questa emissione di liquidità che è stata messa nel sistema dalle banche centrali ci possa essere un po di sviluppo del denaro e visto che i titoli di stato sia in europa che negli stati uniti hanno rendimenti o già negativi o che tendono verso lo zero gli investitori comprano oro che è senza rendimento ma perché si può apprezzare rispetto alle monete che potrebbero incorrere in un po di svalutazione futura abbiamo già visto dopo i fatti dell'alleman braver tra il 2007 e poi sino al 2011 quanti metalli preziosi siano saliti di valore e il grafico sembra un po somigliare a quella situazione il superamento dei 1800 dollari l'oncia sembra proprio un segnale che c'è un po di fame d'oro da questo punto di vista staremo a vedere quale sarà l'evoluzione che però credo possa essere duratura nel tempo ecco non a caso l'oro è stato a lungo un riferimento ufficiale anche delle monete insomma in un portafoglio per così dire davide ideale al di là del fatto che la diversificazione la fa sempre da padrone l'oro compare quasi sempre o dipende dai periodi altra domanda beh un po di oro sta in un portafoglio ben gestito e ben diversificato ovviamente poi quanto in percentuale tocca al singolo investitore o al singolo gestore stabilirlo certo riguardo all'oro c'è sempre il dubbio amletico cioè conviene comprare la materia prima fisica che oramai diciamo così non è un problema poi monetizzare ma è più un problema conservarla perché non si sa bene dove diciamo così custodirla e soprattutto questo rappresenta anche un costo oppure conviene utilizzare alcuni strumenti finanziari che si comportano come se uno comprasse l'oro perché magari essi stessi sono costituiti dal possesso fisico di oro ma che sono finanziariamente diciamo così più facilmente utilizzabili purtroppo alcuni di essi come i futures ogni tanto scadono quindi bisogna fare il cosiddetto rollover cioè passare al contratto con scadenza successiva in ogni caso l'oro è un bene di investimento che di solito quando viene comprato soprattutto se fisicamente parliamo di lingottini o lingotti viene detenuto in portafoglio per un tempo lungo. Ecco io prima ho fatto un po' un recap di quelli che sono i beni rifugio più conosciuti è corretto dire che però quello definito per eccellenza è proprio l'oro perché poi c'è un tema di liquidità Davide ti chiedo anche questo e poi chiudiamo qui per dare indicazioni ancora più mirate rispetto agli investimenti come dicevamo in partenza di beni materiali che possono assicurarci una certa protezione proprio in momenti precari. Li hai citati bene tutti specificando bene anche i problemi legati alla liquidità a seconda del momento ma credo di sì credo che proprio l'oro sia il bene rifugio per eccellenza. Bene grazie Davide Biocchi. Ciao Manuela grazie a voi e grazie a tutti voi arrivederci. Ciao Manuela grazie a tutti.